Domenica 19 settembre, nove quartieri di Cassola al voto per il rinnovo dei comitati. Per l'intera giornata, i e le residenti dai 16 anni in su hanno potuto esprimere la loro preferenza nel pieno rispetto della democrazia. Lo stesso rischia di non accadere a Bassano, dopo che è passata in commissione la richiesta di modifica dello statuto dei quartieri, che andrebbe non solo a far slittare di un anno le elezioni, ufficialmente per poter ultimare i progetti bloccati dalla pandemia, ma andrebbe, cosa ancora più grave, a dare un potere in più a chi governa la città, quando i quartieri dovrebbero stare totalmente al di fuori della politica cittadina. Possiamo accettare uno spostamento eccezionale, ma non la modifica dello statuto che viene proposta, del regolamento, tale per cui, d'ora in poi, il Consiglio Comunale potrà sempre decidere di spostare la scadenza elettorale dei quartieri. Questo è inaccettabile, che significa che poi ogni amministrazione comunale potrà decidere, a seconda dei motivi che vorrà durare, di allungare, accorciare, quindi di cambiare un elemento democratico che è la naturale scadenza dei Consigli di Quartiere. Poletto mette sul piatto il problema di mancanza di persone che vogliano assumersi questo impegno e lancia un'idea. Benvenga il volontariato, anzi ne abbiamo assolutamente bisogno, benvengono queste palestre di democrazia, ma teniamo i partiti fuori da queste cose. La questione sarà all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Poletto non ha dubbi. O viene cambiato in qualche maniera il dispositivo, oppure il mio voto non potrà essere favorevole, perché per me potrebbe essere accettabile un rinvio eccezionale, una tantum, ma non una regola tale per cui poi il Consiglio Comunale possa sempre decidere di modificare questa scadenza. Facendo sì quindi che il sindaco o la sindaca del momento spostino i loro uomini e le loro donne alla guida dei quartieri, andando però a togliere l'imparzialità e l'indipendenza che li dovrebbe contraddistinguere. L'esempio della giunta Pavan, con i suoi simpatizzanti, è più che mai palese. Grazie. Grazie.